Ormai è certo, il distretto Tua rimarrà a Chieti, ma traslocherà dall'attuale sede. La polemica è scoppiata quando il presidente di Tua, Gianfranco Giuliante, ha denunciato il pericolo d'amianto nell'attuale sede, dicendo che la garanzia dei lavori di messa in sicurezza è scaduta, e questo nonostante la proprietà si fosse proposta di fare gli eventuali interventi a proprie spese. La procedura di scatolamento non scade, come ha detto Giuliante, perché le mozzarella scadono, l'amianto di scatolamento va monitorato, l'ultimo monitoraggio è stato fatto ad agosto del 2019, due laboratori specializzati hanno escluso la presenza del pericolo dell'amianto. Per quanto riguarda i costi anche qui, io mi assumo la responsabilità come proprietario di dire che se soltanto ce l'avessero chiesto come successe con la gestione di Alfonso D'Amico, noi avremmo senz'altro diminuito il canone e avremmo lasciato quel sito allo stesso importo dei 4.500 euro che oggi hanno aggiudicato a Central Park, se non addirittura ad un importo inferiore. Nel frattempo è stata individuata la nuova ubicazione del distretto, sorgerà qui, a Brecciarola. I locali dell'attuale sede saranno lasciati a febbraio, anche se secondo il cronoprogramma di TUA, i lavori per rendere idonea la nuova area termineranno solo a ottobre 2020. Il terreno del nuovo deposito TUA è proprietà della Central Park, un SRL di Teramo riconducibile a Giulio Trevi, Sanne e a Walter Serpellini, quest'ultimo titolare di Esa Energie, sponsor della Chieti Basket e con un passato anche nel Chieti Calcio. Serpellini inoltre è l'unico imprenditore al momento a essersi fatto avanti per rilevare la gestione della piscina comunale Tetina, che ai vecchi gestori costava circa 60.000 euro l'anno, ovvero 5.000 euro al mese. Per il nuovo deposito, invece, la Central Park dovrebbe incassare da TUA una cifra vicino ai 4.500 euro, almeno secondo quanto concordato finora. Se così fosse, sarebbero tutti contenti, tranne Gallucci, che sull'affare deposito della TUA annuncia una lunga battaglia legale. Noi abbiamo già notificato con i nostri legali una diffida stragiudiziale alla TUA, con cui contestiamo e impugniamo l'avviso e con cui contestiamo e impugniamo il recesso anticipato. E questa documentazione, unitamente all'altra di cui vi ho parlato, è stata trasmessa alla Procura Generale della Corte dei Conti per ogni più opportuno adempimento. A questo punto, l'ultima parola per la tutela dei nostri diritti spetta la Magistratura.